In fondo, il figlio, il figlio è speciale, non è altro che un elastic man, non è altro che un cuore elastico, non per scelta, ma per genetica, a causa di una sindrome rara che colpisce un caso su un milione. Ogni giorno è una specie di lotta contro il dolore, la fatica, la disabilità invisibile, il modo in cui gli altri ti guardano e qualche volta la loro incomprensione, ma è anche una lotta contro le istituzioni quando tendi a trovare un supporto per far fronte alla tua malattia. Ora, non inseguire le persone, sii te stesso, fai le tue cose e lavora sodo, le persone giuste, quelle che in realtà appartengono alla tua vita, ti seguiranno e resteranno al tuo fianco sempre. Questa è la storia della mia vita, i miei ricordi iniziano così. Eh, sei d'accordo? Sì, mamma, però andiamo pure a mangiare gelato però. Eh, va bene, gelato, gelato. Ma quale vuoi? A pistacchio o a limone? Non pistacchio, ma pure a cioccolato se c'è, mamma. Va bene, poi sceglierai tu. Senti, amore, mamma adesso ti prepara gli spinaci che ti fanno tanto bene, lo sai? No, mamma, io non ne voglio gli spinaci, mamma, dai. Nunzio, fai il bravo. No, non li voglio, mamma, dai. Gli spinaci ti fanno bene, amore, ti fanno crescere molto. No, non lo che voglio, mamma. Allora ti faccio le lenticchie. No, neanche le lenticchie voglio. Ho capito. Allora ti faccio le lenticchie. Allora ti faccio le lenticchie. Allora ti faccio le lenticchie.